Sicuramente Luquercio, miglior simile d'Italia 2018. Oggi iniziamo questo girato con una degustazione che parla di una singola annata, che è la 19. Ma più precisamente parliamo di Trento Dock, quindi dei vari areali su cui si produce il Trento Dock e quanto la montagna riesce a interagire all'interno del cance. Quindi in qualsiasi areale ci troviamo troviamo sempre il Trento Dock che è la fada padrona. Anzi, una piccola dica, c'è proprio uno studio portato avanti in maniera scientifica che mette in risalto come alcune sensazioni organolettiche, sono dei terpeni, quindi delle sostanze volatili, li troviamo solo e sicuramente nel calice di Trento Dock. Quindi come la montagna influenza proprio il profumo, il gusto, il varietale di alcuni vitigni che troviamo qui sul territorio. Non vi dico altro e seguiteci con noi.